Sei grande colui che cammina senza calpestare gli altri. Posso dire una cosa? Non lasciarti ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore. Una delle più grandi sfide della vita è essere se stessi e non cercare di emulare gli altri. Ci sarà sempre qualcuno più bello, più intelligente, qualcuno più giovane, ma non sarai mai tu. Non cambiare per essere amato, sii te stesso e le persone giuste ti ameranno per quello che sei. Se il denaro e il poter ti rendono arrogante, la malattia e la morte dimostreranno che tu non sei niente sulla terra. Un saggio disse, piangere non significa essere deboli, significa che i tuoi sentimenti sono veri. Se ti piace Just One One metteci un like, iscriviti al canale, ricordati siamo una famiglia. Perché almeno una volta ogni tanto, anziché la cosa giusta, bisognerebbe fare la cosa che ci rende felici. Lui non capirà mai il perché, dico la catena, ed è anche io. Lo so che ti hanno tradito, ma non preoccuparti, io non ti tradisco mai. Grazie mille per restare con Just One One, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, restate bene. Grazie. Grazie a tutti.